buongiorno a tutti allora vediamo di definire la velocità anche per un sistema per un sistema rigido in particolare ma si può fare lo faremo per un sistema qualunque di punti è un po diverso da quella del punto singolo perché quando si ha più di un punto magari se ne hanno anche infiniti appiccicati come nel caso dei corpi continui dei fluidi o dei gas o dei corpi elastici e allora è importante anche come le velocità varino da punto a punto e quindi è bene anche considerare una funzione non solo del tempo come si è fatto fisica 1 ma anche del punto in fisica 1 di solito si tratta un punto solo quindi siccome è quello è facile non ci interessa sapere dove nell'espressione della velocità quando invece se ne hanno tanti questo sì è importante un'altra cosa importante che avete fatto sicuramente intuitivamente in fisica o istintivamente è di trattare la velocità come un vettore applicato cioè un vettore applicato laddove il punto si trova non c'è nessun motivo per fare questo uno potrebbe derivare la posizione e gli viene un vettore però viene meglio se il vettore velocità viene pensato là dove si trova e anche in questo senso risulta essere anche una funzione del punto dello spazio una funzione del punto dello spazio attraverso il quale sta passando il nostro punto materiale in ogni in questo istante andiamo a vedere quindi la definizione che è un pochino involuta però da questo punto di vista dovrebbe essere chiara quindi cominciamo con questa definizione dato un punto un istante chiameremo stato cinetico oppure distribuzione delle velocità di un sistema di un sistema meccanico alcuni ancora chiamano atto di moto questo è una terminologia un po' vecchia questa funzione qua una funzione che va da e3 a r3 data da questo che associa ad ogni p la chi punto calcolata in t e in chi alla meno 1 di tp ok questa è la definizione e cerchiamo di capire cosa vuol dire perché la cosa difficile non è impararsi a memoria la definizione ma è capire che cosa vuol dire allora diciamo che uno ha il punto dello spazio attraverso il quale il punto materiale sta passando chi alla meno 1 di tp dice dove si trovava il punto nella configurazione iniziale quella che sarebbe p grande ecco quindi questa sarebbe la chi alla meno 1 di tp lì viene calcolato la derivata rispetto al tempo perché in questo modo questo p non dipende dal tempo o meglio è solo la chi che dipende dal tempo quindi questo qua sarebbe questo qua sarebbe mu se vogliamo di t0x ecco dopodiché il p viene spostato e di conseguenza se si fa la derivata rispetto al tempo si trova quella che è l'usuale velocità poi il chi alla meno 1 la posiziona diciamo così là dove interessa c'è un altro fatto interessante se voi pensate un attimo a che cosa è la chi di tp la chi di tp era per definizione la mu di t0 quindi da questo punto di vista potremmo vedere anche la cosa in questo modo se noi chiamiamo p la quantità mu di t0x ok noi abbiamo anche che mu di tx che sarebbe chi di tp perché sono la stessa cosa perché qui abbiamo insieme x e poi abbiamo e3 qui abbiamo e3 abbiamo il punto nella posizione iniziale che in questo momento non ci interessa abbiamo x piccolo e abbiamo il mu che ci posiziona il punto nella posizione finale questo è il mu di tx questo è il mu di tx ecco per essere precisi questa invece è la chi questa è la chi di t punto applicata a p quindi le due cose sono la stessa da questo punto di vista quindi quando io derivo rispetto al tempo quando io faccio chi punto di tp grande questo è come fare il mu punto di tx quindi è come fare la velocità definita sull'insieme x dopodiché questa diventa chi punto di t virgola chi è la meno 1 di tp se io lo voglio vedere in funzione di p quindi vedete che è anche la definizione di velocità fatta sull'insieme x ecco questo era il senso di questa osservazione qui ed è una definizione un pochino complicata però ha i sui pregi e cioè che ha delle proprietà migliori della stessa funzione pensata rispetto al punto di partenza ci sono per la verità delle applicazioni della velocità vista tutta nel punto di partenza a volte si studiano le curve del vettore velocità indipendentemente dal punto di applicazione e questa cosa qua si chiama odografo in qualche caso si usa per esempio in meccanica celeste a volte si usa l'odografo è il grafico dei vettori velocità tutti riportati in un punto solo per esempio il punto di partenza benissimo allora questa funzione qui questa funzione v di t p piccolo è in generale fa quello che vuole perché se il materiale non ha dei vincoli la velocità può essere qualunque invece nel caso del corporeggio c'è un risultato fondamentale perché il fatto di dover rispettare la distanza fra i punti implica che la velocità come si diceva la volta scorsa non può fare quello che si vuole non può essere diretta in due punti in maniera opposta perché la lunghezza si accorcerebbe ossia o si allungerebbe e di conseguenza devono esserci dei vincoli e questo vincolo è molto è molto semplice da esprimere allora prima di tutto ricordiamo ricordiamo la nostra annotazione quindi p piccolo è chi di t p grande e quindi p grande è chi è la meno 1 di t p piccolo e qui spero che questa annotazione sia abbastanza chiara è un po' se vogliamo sovrabbondante perché si indicano con simboli diversi sempre i punti però ha molti vantaggi allora ecco il teorema principale di questo capitolo dato un sistema rigido di n punti ma è un sistema rigido per intenderci per ogni t esiste un vettore che non è un vettore applicato omega di t tale che per ogni t e per ogni p piccolo si abbia che la velocità in t p piccolo meno la velocità in t q piccolo sia uguale a omega che dipende solo da t vettore prodotto vettoriale p piccolo meno q piccolo ecco questo poi andremo a capire perché deve essere così diciamo cosa significa questa cosa e che traduce proprio il vincolo di rigidità però prima facciamo una dimostrazione perché è simpatica allora intanto noi sappiamo dal teorema fondamentale che t di t p grande meno t di t q grande deve essere uguale a una rotazione uguale per tutti i punti funzione del tempo applicata a p grande meno q grande l'abbiamo usata estensivamente nei moti nei moti adesso facciamo la derivata facciamo la derivata però che non è poi non è ancora la velocità perché dobbiamo sostituire quindi chi punto di t p grande meno chi punto di t q grande sarà uguale a r punto quindi le rotazioni sono degli elementi di uno spazio metrico quindi si possono derivare tranquillamente mentre p grande meno q grande non sono dipendenti dal tempo adesso adesso arriva il punto io devo mettere qua dentro chi ha la meno 1 di t p piccolo e qui dentro ovviamente chi ha la meno 1 di t q piccolo e anche qua però posso fare una cosa diversa posso scrivere questa relazione qui che sto incorniciando adesso in una maniera diversa posso scrivere che p piccolo meno q piccolo è uguale a r funzione del tempo applicata a p grande meno q grande è la stessa cosa ovviamente con la nostra con la nostra mutazione e allora anziché far così anziché scrivere chi ha la meno 1 bla io ricavo p grande meno q grande da qui e lo sostituisco dentro nell'espressione qui facendo la sostituzione io ho chi ha la meno chi punto di t chi ha la meno 1 di t più piccolo meno la stessa cosa su q uguale allora che cosa viene viene l'r punto di t che c'era prima e poi viene r alla meno 1 perché se io ricavo da questo questo coso rosso che sto indicando adesso p grande meno q grande devo portare un r alla meno 1 r alla meno 1 è r trasposto perché r è una rotazione e quindi morale mi viene r trasposto di t applicato a p piccolo meno q piccolo e questa è l'espressione perché adesso a sinistra abbiamo per definizione la velocità di t p piccolo meno la velocità di t q piccolo e quindi abbiamo a destra questo r punto r trasposto che adesso non scrivo più con i tempi per brevità applicato a p piccolo o meno p piccolo questi qui sono dipendenti solo da p che non scrivo chiamiamo adesso omega la trasformazione lineare che abbiamo trovato r punto r trasposto e ricordiamo sempre che tra le proprietà che abbiamo della rotazione abbiamo che r r trasposto anzi mettiamo in evidenza il tempo r funzione del tempo per r trasposto funzione del tempo questo è sempre uguale all'identità che non è funzione del tempo quindi io posso derivare questa relazione e trovare che r punto r trasposto più r r trasposto punto r punto trasposto e r trasposto punto sono la stessa cosa è uguale a 0 0 trasformazione lineare 0 quindi vedete che qui c'è qualcosa che conosciamo allora da qui ricaviamo che omega anzi scriviamo così omega che sarebbe r punto r trasposto questo è uguale anche a meno r r punto trasposto adesso facciamo un trucco scriviamo questa quantità salviamo il meno come r punto r trasposto tutto trasposto controlliamo che è giusto perché quando faccio il trasposto del prodotto devo girare quindi r trasposto trasposto da r r punto trasposto da r punto trasposto ma questo dentro è proprio la omega da cui ero partito per cui scopro che omega è uguale a meno omega trasposto e che quindi omega è antisimmetrica ma se omega è antisimmetrica avevamo visto che esiste per ogni t un vettore omega di t tale che quando io applico la mia omega maiuscola ha un vettore qualunque u questo è uguale a omega minuscola vettore u e basta basta prendere per u p meno q e quindi vado avanti qui in rosso viene omega di t vettore p meno q e di conseguenza la dimostrazione del teorema è completa notiamo varie cose allora la prima quindi facciamo un po' di osservazioni la prima la formula v di t p uguale v di t q più omega vettore p meno q non dice qual è la velocità ma dice solo qual è come si comporta una velocità rispetto a un'altra così un po' come faceva già la chi ecco scriviamo questa cosa in questo modo v di t p meno v di t q e moltiplichiamo scalarmente per p meno q uguale a omega di t vettore p meno q scalare p meno q è evidente che qui c'è un prodotto misto con due vettori uguali questo numero è 0 e di conseguenza anche questo numero è 0 cosa vuol dire vuol dire che la differenza di velocità tra due punti è perpendicolare alla loro congiungente quindi io prendo due punti due posizioni i due punti che stanno nel corpo rigido che si stanno muovendo questa è la direzione di p meno q ebbene andiamo a vedere com'è prendiamo per esempio un vettore qualunque per v di t q prendiamo così ecco a questo punto il vettore v di t p non è più arbitrario nel senso che v di t p deve essere uguale a v di t q più qualche cosa di più un vettore h che deve essere ortogonale a p meno q quindi io mi invento diciamo così un vettore h ortogonale a p meno q come voglio io ecco questo potrebbe essere il vettore h poi sommo v di t q quindi poi riporto v di t q ecco e poi faccio la somma vettoriale e questa è la velocità di t p naturalmente potevo prendere l'h che volevo anche girato dall'altra parte e ho ritrovato qualcosa di diverso però h doveva essere perpendicolare a p meno q un caso molto particolare ma più chiaro da da visualizzare è quello in cui p e q in cui q ha velocità nulla supponiamo che se q ha velocità nulla cioè questo è fermo se v di t q è uguale a 0 allora evidentemente v di t p è perpendicolare a p meno q e quindi deve essere di questa forma qua è come se dire come dire che v di t p deve essere tutto h ecco deve essere perpendicolare lui a p meno q qual è il significato di questa cosa il significato di questa cosa è questo che io scriviamo ancora in modo diverso questa formula di prima io scrivo v di t di p scalare p meno q uguale v di t q scalare p meno q e immaginate di dividere siccome p e q sono diversi per la norma di p meno q che tanto si può fare quindi p meno q fratto la sua norma è un vettore ed è il vettore ciò pq chiamiamola così è il verso scusate è il versore pq quindi p meno q è messo così ecco quindi questo è il versore sto disegnandolo adesso il versore e pq ecco questa formula dice che le due proiezioni della velocità in p e della velocità in q devono avere la stessa componente lungo e pq e questo è giusto perché altrimenti ci sarebbero due componenti delle due velocità diverse ci sarebbe un allungamento o un accorciamento nella distanza fra p e q cosa invece che non deve avvenire questa è una prima osservazione molto importante la seconda osservazione interessante è quello ma perché omega allora osservazione 2 perché l'abbiamo chiamata velocità angolare noi ricordiamo dalla fisica che la velocità angolare è una cosa legata all'angolo eccetera ma è proprio lei che infatti prendiamo il caso semplice di una rotazione attorno a un asse fisso ecco se facciamo la rotazione attorno a un asse fisso noi sappiamo che possiamo prendere la matrice soltanto 2 per 2 e che è della forma cos theta meno sen theta sen theta cos theta questa è la r ovviamente scusate facciamo un po' più grande perché adesso dobbiamo r di t quindi questo sarà cos theta di t meno seno theta di t seno di theta di t e coseno di theta di t questo qua è la r adesso facciamo consideriamo la r trasposto la r trasposto è facilissima quindi sarà coseno seno meno seno coseno coseno ecco adesso dobbiamo calcolarci omega omega sarebbe r punto r trasposto allora dobbiamo calcolare r punto quindi vediamo r punto r punto non è difficile perché basta derivare termine a termine quindi abbiamo meno seno di teta teta punto questo è importante meno coseno di teta teta punto coseno di teta teta punto e meno seno di teta teta punto quindi se vogliamo è teta punto vedete per un'altra matrice che è meno sen teta meno cos teta cos teta meno sen teta ecco adesso calcoliamoci r punto r trasposto però cerchiamo di essere furbi io so che questa matrice è antisimmetrica l'abbiamo dimostrato in ogni caso quindi è inutile che stiamo a calcolarci proprio tutto sappiamo già che questi sono due zeri e che questo termine qui sarà l'opposto di questo qua per cui è sufficiente calcolare quello che sto indicando in rosso adesso cioè prima riga seconda colonna quindi andiamo a vedere che cosa avviene quindi verrà zero poi devo fare r punto eccolo qua r trasposto quindi vedete che viene prima riga seconda colonna quindi viene meno seno al quadrato di teta meno coseno al quadrato di teta e poi c'è un teta punto qua così chiaramente l'altro sarà il contrario e quindi siccome questo è meno teta punto questo sarà più teta punto quindi morale r punto r trasposto sarà teta punto per la matrice zero meno uno uno zero ok adesso ci chiediamo perfetto quindi abbiamo trovato la omega adesso ci chiediamo che cosa fa omega applicato a p meno q omega applicato a p meno q quindi vediamo un po' sappiamo che è un vettore omega piccolo vettore p meno q ecco andiamo a vedere che omega piccolo è proprio e3 anzi scusate teta punto e3 che è quello che uno si aspetta perché se la rotazione avveniva intorno all'asse e3 è proprio quello che uno si aspetta per la velocità angolare che siamo abituati a conoscere dalla fisica ci possiamo domandare se questo omega che abbiamo determinato sia unico domanda lecita ecco la risposta è quasi sempre sì allora supponiamo intanto se il se il sistema è costituito da tutti i punti dello spazio allora sì lo vedremo subito però diciamo è sufficiente che ci siano tre punti non allineati nel nostro corpo p, q, r non allineati perché omega sia unico infatti noi sappiamo che v di t, p meno v di t, q deve essere uguale a anzi supponiamo così supponiamo che esistano due vettori omega 1 di t e omega 2 di t per i quali sono vere le formule che per esempio v di t, p meno v di t, q sia uguale a omega 1 vettore p, q e allo stesso tempo anche omega 2 vettore p, q ecco allora da qua si vede immediatamente che omega 1 meno omega 2 vettore p meno q deve fare zero e che quindi omega 1 meno omega 2 deve essere o nullo ovviamente p e q devono essere d, sono diversi deve essere parallelo a p meno q ora supponiamo che esistano tre punti come si diceva p, q, r non non allineati allora è chiaro che omega 1 meno omega 2 deve essere contemporaneamente parallelo a p meno q parallelo a r meno q e di conseguenza può essere solo zero e questo implica che omega 1 è uguale a omega 2 ecco invece se i punti sono tutti allineati allora omega non è unico diciamo che ogni omega è uguale a un certo omega 0 più s volte la il vettore per esempio p meno q ecco questi qui sono tutti buoni se addirittura poi il punto il sistema è costituito da un punto solo che è un caso chiaramente degenere perché stiamo parlando dei sistemi e quindi ci aspettiamo che ci sia almeno un secondo punto allora in quel caso addirittura omega è completamente indeterminato perché chiaramente omega di t meno omega di q fa sempre zero perché c'è solo il punto p e di conseguenza il secondo membro può fare quello che vuole benissimo allora vediamo adesso se possiamo dire ancora qualcosa di più rispetto alla nostra distribuzione di velocità rigide allora intanto abbiamo già osservato che le velocità verificano v di t p meno v di t q scalare p meno q uguale a zero poi poi l'altra cosa che si può osservare è che se io prendo questa quantità ip di t definita da omega di t scalare v di t p quindi una volta abbiamo fatto il prodotto scalare con p meno q adesso facciamo il prodotto scalare con omega cosa osservo? osservo che se io calcolo i in un altro punto per esempio q che sarebbe omega di t scalare v di t q questo dalla formula che abbiamo trovato prima diventa omega di t scalare omega di t vettore p meno q meno anzi più omega di t scalare v di t p perché? perché v di t q è uguale a v di t p meno no no qui ci vuole un meno quindi omega vettore p meno q ecco semplicemente perché l'ho girata e di conseguenza mi accolgo che questa quantità è nulla e questa è esattamente uguale a i p di t quindi la quantità i di t uguale omega di t scalare v di t p non dipende da p in realtà dipende solo dal tempo e questa quantità si chiama invariante scalare e dice qualche cosa sulla sulla distribuzione della velocità infatti poi vedremo che cosa che cosa vuol dire allora adesso però diciamo per capire meglio ancora come sono messe tutte queste velocità a un istante fissato c'è un per capire bene questo c'è un teorema molto molto diciamo molto interessante molto suggestivo che si chiama poecchio si chiama teorema di mozzi è un classico della meccanica razionale di un po' di anni fa dice sostanzialmente questo che lo stato cinetico rigido è istante per istante quello di un cavatappi cioè in cui si ha una una rotazione attorno a un asse e contemporaneamente un avanzamento lungo quest'asse ovviamente la difficoltà di tutto sta nel fatto che quest'asse non è sempre lo stesso e varia col tempo ecco qui quando un corpo rigido ruota in ogni istante la sua distribuzione della velocità assomiglia a questo oggetto che non è un cavatappi è una cosa simile a uno schiaccianucci un pezzo di uno schiaccianucci questo qua avanza ruotando intorno a un asse il problema è che poi l'asse cambia da momento a momento e quindi il sistema diciamo il movimento può essere molto più complicato di quello della semplice vite che avanza o che retrocede per esempio qui è il resto ecco il resto dello schiaccianucci questo affare qua può ruotare in maniera molto strana però in ogni momento c'è un asse intorno al quale diciamo così si comporta come l'altro pezzo come il pezzo che tende ad avanzare se poi quest'asse rimane costante allora il movimento è effettivamente quello di avvitamento e di svitamento vediamo l'enunciato e poi la dimostrazione nel teorema di mozzi che sono simpatici allora dato uno stato cinetico rigido esiste un punto m piccolo di e3 tale che per ogni p piccolo appartenente a e3 o appartenente in pratica al corpo si abbia v di tp meno v di tm uguale omega vettore p meno m e tale che omega di t vettore v di tm sia uguale a 0 poi se poi omega di t che è il caso più interessante è diverso da 0 allora tutti i punti della retta per m e parallela a omega hanno la stessa velocità e questa retta che si chiama asse di mozzi è il luogo dei punti a velocità minima ovviamente in t in quell'istante poi cambierà la retta e quindi cambierà anche il luogo vediamo la dimostrazione di questo che è un po' articolata o intanto prendiamo il caso omega uguale a 0 se omega di t è uguale a 0 in un certo istante basta basta prendere ogni m per ogni m chiaramente si ha omega vettore v di t m uguale a 0 quindi questo è il caso banale altrimenti prendiamo omega di t diverso da 0 quindi supponiamo omega di t diverso da 0 e consideriamo la solita formula dello stato cinetico rigido v di t p uguale v di t q più omega di t vettore p meno q siccome omega è diverso da 0 io prendo la velocità e omega tra l'altro è un vettore non applicato da nessuna parte quindi io posso in ogni caso pensare di applicare omega a q tanto non ha un significato fisico e posso decomporre v di t q in una componente parallela a omega e una componente perpendicolare a omega quindi questa che chiameremo v perpendicolare e questa v parallela ovviamente queste due non sono delle cose che si ricavano dalla figura sono semplicemente si possono ottenere per proiezione per esempio v parallela non è altro che v di t q scalare omega diviso per la norma di omega perché se io prendo il versore di omega che ci esiste perché omega è diverso da 0 e poi faccio v di t q scalare quello troverò v parallela cioè la componente del vettore v parallelo nella direzione di omega e poi devo di nuovo moltiplicare per il versore di omega quindi v parallelo è dato da quell'espressione lì è un po' complicata ma si costruisce a partire da v di t q e da omega dopodiché v perpendicolare non è altro che omega meno v parallelo e quindi entrambi sono univocamente determinati a questo punto possiamo decomporre la v e scrivere che v di t p è uguale a v parallelo più v perpendicolare più omega di t vettore p meno q a questo punto si possono dare due casi supponiamo che v perpendicolare sia 0 allora se v perpendicolare è 0 in quell'istante lì allora vuol dire che v di t q è uguale a v parallelo e quindi posso opporre m uguale a q e come si vede io ho che v di t q u di t m che sarebbe v di t q è parallelo a omega e quindi il prodotto vettoriale fa 0 prodotto vettoriale uguale a 0 vuol dire che sono paralleli ormai altrimenti v perpendicolare sarà diverso da 0 allora a questo punto io so dal teoremino che abbiamo visto sulla divisione per il prodotto vettoriale che esiste un unico vettore u che ha questa proprietà che v parallelo è uguale a omega di t vettore u ecco questo l'avevamo dimostrato nei richiami e a questo punto ricordiamoci che v perpendicolare è perpendicolare a omega per costruzione quindi funziona a questo punto poniamo m uguale al punto q meno il vettore u che è una operazione leccita così che u è uguale a q meno m e quindi v perpendicolare è uguale a omega di t vettore q meno m allora a questo punto risostituiamo la la formula che adesso sto segnando in rosso all'interno dell'espressione che avevamo trovato quindi risulta che v di t p è uguale a v parallelo più omega di t vettore q meno m più omega di t vettore p meno q a questo punto omega di t si può raccogliere e questo rimane v parallelo più omega di t vettore vettore q meno m più p meno q che dà le nostre proprietà dei vettori diventa omega di t vettore p meno m e così è così il secondo pezzo è a posto adesso c'è da capire ci resta da capire che cosa è v parallelo però questa relazione se ci pensiamo un attimo è vera per ogni p appartenente al corpo quindi posso prendere p uguale a m se prendo p uguale a m vedo che v di t m è uguale a v parallelo e basta perché l'altro pezzo è 0 e quindi e poi dicono che l'equivalenza è simmetrica quindi v parallelo è uguale a v di t m di conseguenza abbiamo dimostrato il primo pezzo quindi v di t p è uguale a v di t m più omega di t vettore p meno m e adesso siccome v parallelo era parallelo a omega e chiaramente v di t m che è uguale sarà parallelo a omega adesso vediamo che tutti i punti della retta passante per m e parallelo a omega hanno la stessa velocità quindi prendiamo un punto p della forma m più qualcosa parallelo a omega quindi qualcosa per esempio s volte omega ecco con s reale naturalmente è un omega di t ma anche m è tutto allora no beh m è un punto di e3 non dipende dal tempo allora a questo punto da qui si vede che p meno m è uguale a s volte omega di t cosa vuol dire quindi che v di t p è uguale a v di t m più omega vettore s volte omega di t e questo è il prodotto vettoriale chiaramente 0 perché sono paralleli e quindi viene v di t m e pertanto p ha la stessa velocità di m e quindi su tutta la retta su tutto l'asse di mozzi la velocità è uguale vediamo adesso che all'istante considerato questa è anche la velocità minima ecco per far questo allora prendiamo il modulo di v di t p al quadrato ora questo fatto questa velocità è semplicemente v di t p scalare v di t p e quindi adesso ci vuole un po' di pazienza è l'espressione che abbiamo detto sopra v di t m più omega di t vettore p meno m scalare se stesso che è il classico quadrato di un binomio che dà quindi v di t m il modulo al quadrato più due volte v di t m scalare omega di t vettore p meno m infine più omega vettore p meno m al quadrato in modulo al quadrato adesso qual è la novità la novità è che questo va bene sarebbe per ogni punto ma m è un punto speciale la velocità di m è parallela a omega e quindi questi due vettori qua sono paralleli ma allora come ben sappiamo nel prodotto misto quando ci sono due vettori paralleli il prodotto misto è zero e quindi questo termine non c'è quindi in realtà v di tm la v di tp al quadrato è v di tm al quadrato più omega di t vettore p meno m in norma al quadrato che è maggiore o uguale come quadrato positivo del solo primo addendo e di conseguenza scopriamo che per ogni che il v di tm è minore o uguale è minore o uguale di v di tp al quadrato per ogni p p e3 e quindi chiaramente su quella retta ci sono tutti i punti di velocità minima adesso vediamo che ci sono solo punti di velocità minima ci sono solo scusate ci sono solo punti di velocità minima adesso vediamo che sono tutti i punti di velocità minima quindi supponiamo che esista un p tale che v di tp sia uguale a v di tm ecco se volete anche il modulo non importa tanto il minimo è riferito al modulo ovviamente non al vettore allora è chiaro quindi da quello che abbiamo appena trovato che v di tm in questo caso sarà uguale al quadrato sarà uguale a v di tm al quadrato più il modulo di omega vettore p-m al quadrato anzi qua mettiamo p ma se questi due sono uguali per ipotesi si semplificano e quindi diciamo che il punto p in questione che ha lo stesso valore del modulo della velocità in m verifica omega di t vettore p-m in modo al quadrato uguale a 0 ma questo vuol dire poche cose vuol dire che omega di t vettore p-m è uguale a 0 come vettore come vettore però attenzione omega di t non è 0 perché stiamo ragionando dall'ipotesi in cui ci sia l'asse di mozzi e tutto quindi vuol dire che o p-m è uguale a 0 e quindi vuol dire che p è uguale a m ma allora p sta sull'asse di mozzi oppure che p-m è parallelo a omega ma allo stesso modo vuol dire che p sta sull'asse di mozzi e quindi abbiamo visto che anche tutti i punti di minimo stanno sull'asse di mozzi quindi l'asse di mozzi è esattamente il luogo dei punti che hanno il modulo della velocità minima e con questo la dimostrazione è completa vediamo per finire due o tre perfide terminologie allora la prima è se omega di t è uguale a 0 lo stato cinetico si dice traslatorio e qui dovete stare molto attenti perché si è usato lo stesso nome per un moto quando si dice moto traslatorio si dice qualcosa che trasla come abbiamo visto anche il caso in cui non è detto che trasli in modo rettilineo però bisogna stare attenti perché lì si lì si vede facilmente che lo stato cinetico è traslatorio in tutti gli istanti mentre invece qua si sta parlando di un istante solo quindi quando si dice stato cinetico dovete pensare solo all'istante t l'istante immediatamente successivo può esserci una cosa completamente diversa per esempio riprendiamo questo corpo di prima lui sta traslando poi a un certo punto arriva qua e inciampa nell'inciampare comincia a ruotare quindi vedete da un istante immediatamente precedente in cui lo stato cinetico era traslatorio diventa ruotatorio e poi un momento dopo può continuare a essere traslatorio o addirittura qualcosa di peggio perché c'è anche il caso della vite che non è né rotatorio né traslatorio perché c'è un avanzamento lo vediamo tra un attimo l'altra definizione è che se esiste un punto P con V di T P anzi facciamo la Q con V di T Q uguale a 0 lo stato cinetico si dice rotatorio all'istante sempre ecco allora altrimenti si dice rototraslatorio ecco si possono vedere varie cose facili da questo punto di vista e cioè la più semplice diciamo così quella più riassuntiva è la seguente uno stato cinetico è rototraslatorio se e solo se in un istante se e solo se l'invariante scalare in quell'istante è diverso da 0 allora per dimostrare questo dobbiamo fare prima un'operazione logica perché noi abbiamo detto che rototraslatorio vuol dire non traslatorio o rotatorio ecco quindi vorremmo dimostrare che questo è equivalente a i di T diverso da 0 allora ribaltiamo gli entrambi tanto possiamo perché è un se e solo se e cioè traslatorio o rotatorio se e solo se i di T uguale a 0 ecco questo è equivalente alla cosa adesso dimostriamo come si deve allora supponiamo che sia traslatorio o rotatorio quindi o succede che omega è uguale a 0 ricordiamoci che l'invariante scalare era omega di T scalare V di T e prendiamo un punto qualunque prendiamo proprio M perché tanto diciamo se omega è diverso da 0 sappiamo cioè che esiste sempre allora traslatorio rotatorio vuol dire se è traslatorio omega è uguale a 0 e questo implica i di T uguale a 0 ovviamente se invece è rotatorio esiste Q tale che V di T Q è uguale a 0 ma allora ugualmente l'invariante scalare è 0 perché tanto l'invariante scalare è uguale per tutti i punti e quindi da traslatorio o rotatorio segue che I è uguale a 0 chiaramente se poi è traslatorio e rotatorio insieme vuol dire che è la quiete e quindi a maggior ragione i di T è uguale a 0 adesso vediamo il viceversa supponiamo che i di T sia uguale a 0 quindi vuol dire omega di T scalare V di T m uguale a 0 ora noi ricordiamo da quello che abbiamo visto nei richiami sull'algebra vettoriale che i dati due vettori uno è omega di T l'altro è V di T m che il prodotto dei quadrati dei moduli è sempre uguale al quadrato del prodotto scalare più il quadrato del prodotto vettoriale ecco allora che cosa succede? qui abbiamo per ipotesi che il prodotto scalare è 0 e quindi questo termine è 0 e poi per costruzione con l'aspera del teorema di Mozzi omega vettore V di T m è sempre 0 anche lui e quindi abbiamo che il prodotto dei moduli al quadrato è 0 ma allora vuol dire che almeno uno dei due moduli è 0 quindi omega è uguale a 0 che corrisponde al caso traslatorio oppure v di T m uguale a 0 che corrisponde al caso rotatorio poi se sono tutti e due c'è soltanto la quiete e così abbiamo dimostrato la proposizione che corrisponde che corrisponde